check dell'arbitro e si comincia olimpia contro san paolo alla vostra sinistra olimpia alla vostra destra san paolo buon divertimento rischia san paolo esce bene scarica sulla destra cross ottima la risposta del portiere ma non è finita di nuovo fischia direttamente una punizione dalla mattonella pericolosissima attenzione però gioca d'astuzia di poco ottimo il tacco del centrocampista l'anticipo o non lo scarico al centro da gol facile facile 1 a 0 dell'olimpia ma l'imbocata piccato per la conclusione posizione una ottima posizione l'olimpia fischia l'arbitro il destro del gol 2 a 0 facile facile fischia l'arbitro il filtrante la piazza 3 a 0 per l'olimpia facile facile una fretta fischia l'olimpia che gestisce bene palla la destra buona l'imbucata e ancora 4 a 0 facile facile ripartenza pericolosa dell'olimpia sinistro chirurgico l'angolino del portiere 5 a 0 e poi c'ha nel portiere voraci ottima l'imbucata è solo e spinge bene il portiere salva i suoi il mezzo è da solo sbaglia tutto c'è il fischio finale dell'arbitro fine primo tempo squadra riposo sul 5 a 0 tutto troppo facile per l'olimpia chissà se il san paolo avrà un accenno di reazione check dell'arbitro e si riparte secondo tempo olimpia 5 e san paolo 0 vediamo se avrà una reazione d'orgoglio il san paolo a fare tanto per recuperare questo svantaggio ottimo il numero per liberarsi dell'avversario ancora scarico sulla sinistra se c'entra larga sulla destra che è solo può tentare il tiro la finta tutto molto facile anche di tacco 6 a 0 ottimo il lancio sulla destra non lo scarico ma ancora l'olimpia compatta può ripartire in 3 contro 1 finta sul portiere finta sul portiere in sinistro ed è gol 9 a 0 ancora l'olimpia perfettisce il pallone cross di testa 10 a 0 risultato tondo tondo fischia la fine anticipatamente 10 a 0 per l'olimpia partita che non ha avuto sicuramente avversari il senso unico si conclude così Grazie